ah mi sono fatta la bua buonasera anche dalle di ghost le dice d'acqua le di nastrino e tutto il resto della mia cumbricola appesa in una pesa appoggiata ecco fatto un macello era rimasto sotto il mio specchietto di ossidiana devo mettere a posto una marea di robe che ciò qui perché ho preso lo specchio d'ossidiana poi ho preso questo perché parlavamo dei legni particolari con giovanni poi avevo preso sciaulau perché ci avevo chiesto un'invocazione ed era rimasto qua poi avevo preso la tormalinazza per farla vedere durante un video poi avevo preso la polvere di lapislazzolo e la graniglia di ametista sempre perché ne stavo parlando per farla vedere e insomma ammucchia 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 c'è un casino qua sopra che voi umani non potete neanche immaginare ma torniamo sonno a parte neanche un po occhiaia da panda belin che sono così visto tornata la codetta perché io dopo un po sclero con la criniera aprita apruta aprita mercoledì interattivo come al solito il mercoledì interattivo si svolgerà con cinque responsi su una vostra domanda una vostra curiosità o semplicemente pensando a un messaggio che vi arriverà dall'universo 5 su cui scegliere tra l'uno e il 5 con gli oracoli delle streghe lucenti il megalibrone galattico non è galattico ma scritto da silvia di menna sotto dettatura della sua guida euridice grazie al quale ho iniziato con questi mercoledì interattivi che adesso stanno avanti ormai da tempo e dopo un tot di mercoledì integrati in mercoledì interattivi fatti con gli oracoli delle streghe lucenti si è aggiunto un nuovo archibugio magico le carte del destino create da adam green con le carte del destino faccio invece tre stese e voi dovete scegliere prima se la stesa numero uno la stesa numero due o la stesa numero tre per un nuovo risponso una risposta in più un nuovo messaggio dall'universo ognuno vedrà per sé adesso come al solito ma già lascia qualche minuto per pensare bene su cosa vorreste un consiglio un risponso un aiuto e nel per concentrarvi sul numero della risposta che sarà la vostra che potrà essere la 1 la 2 la 3 la 4 o la 5 per gli oracoli delle streghe lucenti e potrà essere la stesa numero uno la stesa numero due o la stesa numero tre per le carte del destino potete scegliere anche di ascoltare solo gli oracoli delle streghe lucenti solo la stesa delle carte del destino o entrambi quindi chiedere un consiglio una domanda un qualcosa per l'una e per l'altra veggenza oggi 8 marzo festa della donna io non la festeggio perché non è una festa mi costrinsero costrinsero proprio una cosa come 20 e resto patate sarà 25 26 anni fa una volta le amiche ad andare a ballare a me ballare ha sempre fatto schifo e poi io sono la leggiadra di marmo non riesco a fare nemmeno il ballo del mattone e manco quello con la scopa in una discoteca che se non erro negli anni del carretto era il maco di corso italia a genova ma non sono particolarmente sicura che fosse il maco anche se mi pare che fosse quel contanto di striptease maschile finale che io non ho guardato perché ho dormito metà della serata su un divanetto tant'è vero che è avvenuto anche un tipo che scrollandomi mi ha detto ma tu vieni in discoteca per dormire e io lo guarda egli dice tu vieni in discoteca per farti cazzi degli altri dopo di che mi rimisi a dormire una ventina di minuti circa a ridere da pisciarmi addosso quando una delle mie amiche si mise ad inseguire per tutto il locale lo spogliarelliste quel povero cristo si andò a nascondere nei cessi e la rimanente mezz'ora a guardare il karaoke che era in una stanza adiacente che era l'unica cosa un po carina che mi poteva piacere essere un altro perché la gente che canta stonata o intonata che sia sceglie sempre quelle belle canzoni che conoscono tutti e non il punch 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 della sala di là che invece mi faceva venire duco cotes che mi ha mali turchi non mi è mai piaciuta la musica dance mai escludendo forse sempre negli anni proprio non del carretto del dinosauro ivana spagna che faceva un qualcosina di semi dance tipo wanna be your wife tipo easy lady quelle robe lì che era carruccia oppure proprio la musica anni 80 alla tarzan boy alla quelle robe lì ma in generale la densa me ha sempre abbastanza fatto cacare ma io sono anche quella che anche le canzoncine da sagra di paese alle grotte tipo le canzoni di vianello le canzoni non le ho mai potute digerire non le sopporto io ascolto soltanto o rock metal in qualsiasi lingua ma rock metal oppure melodiche melodiche italiane melodiche di qualsiasi nazionalità perché io ascolto musica di tutti i paesi ma per lo più melodiche melodiche medieval melodiche che hanno un contesto comunque ispirato faccio forse eccezione con qualche canzone a sfondo sfotto la società che mi piacciono anche quelle particolarmente tipo qualche canzone di andrea non tutte qualche qualche canzone di vecchioni qualcuna di venditti negli ultimi vent'anni mi era piaciuta giusto soltanto occidentali scarma di quel genere un po così un po da sfottiamo la società che tanto se lo merita mi era piaciuta quella dell'anno scorso che non mi ricordo neanche chi cavolo la cantava con le mani con con il culo ciao ciao che anche quella sfotteva abbastanza la società e quest'anno mi era piaciuta giusto che l'ho sentita su internet perché io non ho la televisione lo sapete non la guardo ma avevo sentito quella di chemical si chiama così non ne sono neanche particolarmente sicura che sembra essere carruccia allora dico una bugia delle canzoni di qualche anno fa già già un po datate mi era sembrata carina di quelle alle grotte che però anche in questo caso ha comunque uno sfondo che riprende la società e il modus di vita di oggi l'esercito del selfie perché anche se sembra alle grotta ha comunque un senso reale nelle parole poi io sono una che ascolta moltissimo le parole e pochissimo la musica di contorno mi interessa di più cosa dice una canzone a prescindere dalla sua tonalità torniamo invece alle veggenze era per dare un po di tempo facendo quattro chiacchiere tanto che pensavate al consiglio che volete e al numero da scegliere tra 1 e 5 per gli oracoli delle streghe lucenti da 1 a 3 per le carte del destino premessa solita e doverosa se non avete ancora chiara la situazione quindi se non avete ancora chiaro o la domanda o l'idea di cosa vorreste sapere o che numero scegliere delle risposte stoppate il video pensate concentratemi bene e poi fatelo ripartire altra premessa che ogni tanto faccio ma sempre doverosa per chi si collegasse per la prima volta alle veggenze del mercoledì interattivo se non li ha ancora ascoltati può ascoltarsi anche tutti i precedenti scegliendo prima e facendo la stessa prassi se invece ha già sentito i risponsi allora non vale più bisogna che aspettate mercoledì prossimo partiamo invece ora con i risponsi degli oracoli delle streghe lucenti e siccome lo so che lo dico sempre ragazzi ma c'è sempre la questione solita il mercoledì interattivo è abbastanza anche ripetitivo me ne rendo conto ma tantissimi si collegano di volta in volta e magari ne beccano uno a caso quindi io cerco sempre di dare tutte le nozioni ogni volta siccome in tantissimi più di tantissimi mi hanno chiesto e mi chiedono ma il libro delle streghe degli oracoli delle streghe lucenti oppure ma le carte del destino create da adam green come le facciamo ad avere anche per noi se volessimo averlo per chiedergli un consiglio tutti i giorni qua sotto onde evitare che tutte le volte devo rispondere le stesse cose perché io poi a essere ripetitiva appunto non è una cosa che mi diverte tanto e inoltre non posso ogni volta rispondere a 50 messaggi solo per questo ve lo lasciati qua sotto i link c'è il link mi sembra di lululibri dove trovate gli oracoli delle streghe lucenti ma gli oracoli delle streghe lucenti ma li trovate anche nella bottega di oririce che è la bottega ufficiale delle streghe lucenti e li trovate anche contattando la pagina facebook le streghe lucenti per le carte del destino di adam green solo sul sito che ho messo qua sotto del giardino dei libri e adam ha anche lui un canale youtube qui e un gruppo su facebook che si chiama proprio le carte del destino partiamo ora con le cinque risposte date dagli oracoli delle streghe lucenti per chi ha scelto il numero uno non mentire a te stesso la tua anima sa già la risposta guardati dentro la prima impressione è sempre quella azzeccata ricordatevelo risposta numero due l'universo ti ama e sarai ascoltato chiedi 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 quindi questo è il momento migliore per poter chiedere all'universo qualche aiuto se volete chiedere aiuti all'universo la cosa migliore da fare sempre è di accendere specialmente in luna crescente quando si attrae un qualcosa una candela azzurra di richiesta appunto all'universo e mentre la candela si squaglia e poi lasciarla finire e buttare i resti alla fine tranquillamente nella munnezza senza grossi problemi o rituali l'importante è non soffiarci sopra ma lasciarla consumare dopo le 21 luna crescente azzurra la candela se è in cera d'api o in cera di soia è meglio per una questione vibrazionale più naturale ma va bene anche quella di paraffina è un po' meno potente a una vibrazione più bassa e poi fate la richiesta visualizzando nella vostra mente come se questa cosa voi l'aveste già ottenuta questa è la prassi per la richiesta all'universo risposta numero 3 la tua opinione è importante fatti valere esprimiti liberamente esprimiti liberamente significa di quello che pensi ma non in maniera arrogante e maleducata sempre comunque con parole gentili ed educate 4 risposta numero 4 agire agli ostacoli che stai trovando usando la fantasia e l'astuzia sii positivo e raccoglierai i frutti pensa sempre positivo io penso positivo perché sono vivo perché sono vivo la canzoncina ci sta sempre ce l'ho per tutte le occasioni ultima risposta numero 5 per gli oracoli delle streghe lucenti non accettare compromessi perché la tua moralità deve venire per prima questo è il quinto consiglio degli oracoli delle streghe lucenti il libro delle risposte di euridice euridice è una delle guide della scrittrice silvia di menna che ha pubblicato questo libro adesso prendo l'altro archivugio veggentico ovvero le carte del destino create da adam green io devo dire create lo dico sempre non posso dire di adam green perché sennò adam si arrabbia ogni volta che dico di adam green lui mi risponde sennò le tue non sono le mie allora per non farlo arrabbiare devo dire create da le mie carte del destino create da adam green le remescio si dice a genova cioè le mescolo le mischio le arremeno dopo che le ho remesciate per bene io ho l'abitudine è un'abitudine mia di alzarle con la mano sinistra e mettere sotto dopodiché metto cinque carte perché per questo tipo di veggenza questo tipo di interattivo ne uso cinque ogni volta di modo cambiate più possibilità di mixare le risposte per i vostri casi specifici stesa per chi ha scelto la numero uno una due tre quattro e cinque arriva riba poso il mazzo chiappo l'archivugio telefonico ce l'ho con gli archivugi oggi e le giro uno matrimonio quindi unione legame coppia a seconda sorpresa novità una cosa diversa una cosa che non ci aspettavamo moglie da parte di una donna legata a noi in qualche modo di più quindi più di ciò che ci saremmo aspettati anche in seguito anche dopo quindi continuerà a farci arrivare delle sorprese delle cose che noi non ci aspetteremmo ora le mixchio aiuto me scigano per la seconda volta per prepararmi alla stesa numero due quindi per chi ha scelto la stesa numero due rifaccio il passaggio della coppata con la sinistra metto giù le cinque carte coperte tre quattro e cinque ariacchiappo il phone phone e le giro collega tornato amore ignorare non fare non fare questa va un po' a libera interpretazione in base ai vostri casi collega può essere una persona collegata a noi lavorativamente per qualche progetto in senso di collegamento a noi tornato amore potrebbero essere separati quindi una persona a cui volete comunque bene che è tornata perché prima non ci stava oppure un ritorno di affetto per questa persona oppure un qualcuno su cui tornano le sentimenti che però andrebbero ignorati e non agevolati ignorare non fare quindi occhio a volte bisogna spegnere il cuore e accendere il cervello brutto dirlo soprattutto per chi vive molto di istanti molto di sensibilità e di istinto ma a volte anche l'istinto deve essere in qualche modo messo a tacere dalla ragione che ci piaccia o no fa parte anche questo di una vita completa e matura dell'essere umano poi ripeto le stese sono comunque interpretabili più da voi che non da me perché ognuno di voi ha le sue situazioni e può rapportarle meglio alla sua esistenza personale coppiamo per la terza volta e mettiamo giù una due tre quattro e cinque ripichiamo l'aggeggio malefico chiamato cellulare notizia legge avanti nascita vincerai potresti avere una qualche notizia a livello legale di un qualcosa che è andato avanti e da qui nascerà una vittoria o potresti avere una notizia di un qualcosa che è andato avanti a livello legale e che riguarda una nascita e la vincerai in ogni caso il risponso è positivo avrai nuove notizie la situazione andrà avanti e la vincerai queste erano le tre le tre leggenze le tre interattive con le carte del destino che io ora mi rimetto in ordine a posto per bene quando mi si incesplicano mi da un fastidio ecco belle dritte che io non sopporto che mi sci rovinino le attrezzature io tengo tutte le mie attrezzature sacre in tutti i sensi e anche questo mercoledì interattivo sosemo no scherzavo anche questo mercoledì interattivo è andato è prestino sono le nove e mezza ma il tempo che carico il tempo che metto la copertina che metto le didascalie che si carica è tutto e poi vado a crollare perché perché io oggi ho fatto lo yo-yo in mezze marche e domani farò altrettanti io-yo in giro tanto tanto per tanto per non perdere l'abitudine e quindi anche domani sarò out tutta la giornata in tutti i sensi out quindi è meglio che faccia un pelo di nanna tra l'altro quel grandissimo rompiscatole di mio figlio si è messo in testa di voler fare una partita a scacchi con me non ho ancora capito che io vinco a qualsiasi gioco con le carte na strage adesso ce vuol provare con gli scacchi e mi tocca una vita che non gioco a scacchi ma non avevo intenzione di ricominciare se non mi mettevo a perdere la piccola piattola il mercoledì interattivo comunque è fernuto e vi lascio essere o dover essere il dubbo emletico contemporaneo come l'uomo del neolitico nella tua gabbia due per tre mettiti comodo l'intelligenza e quella è la parte più vera della canzone ciao ciao ciao